...parlando, perché vieni in Albania per protestare, cosa? Cioè, sembra, se vogliamo fare un po' di ironia, sembra che tu vieni qua a dirci, no, gli emigranti li vogliamo noi. Gli volete voi, gli emigranti? Sì, certo, sì, sì, certo. Io, intanto, grazie mille della possibilità di parlare con le persone che ci stanno guardando. Io, nel frattempo, traduco simultaneamente, e ciò ciò che fa l'imderito per Muzin, che mi è un po' di un portafoglio per te, c'è? Io rappresento, oltre me stessa, perché credo molto in questa protesta, io sono la Presidente di Volta Europa, che è un partito paneuropeo, cioè in tutti i paesi dell'Unione Europea, più Albania, Kosovo, Ucraina, Regno Unito e Svizzera. Un è un Presidente Volta Europa, che è un partito? Sì. Cioè, un parte, infatti, è il Presidente di Nel Gito della Vandata Europeana, perché è il territorio extra-bascinato europeo, se ci sono in edizione. E noi abbiamo un'idea diversa di immigrazione, cioè, tanto per cominciare, crediamo che le persone abbiano diritto di spostarsi e che l'Europa, l'Unione Europea, ma secondo me anche l'Europa in senso più esteso, abbia la possibilità di accogliere queste persone. L'Italia e anche l'Albania hanno delle storie di immigrazioni, dove i popoli che ci hanno ricevuto, quindi, non lo so, la immigrazione italiana verso gli Stati Uniti, o quelle albanese verso l'Italia hanno beneficiato. Ne kemi n'idea tjeta, infatti, per emigrimin, vecenarisht popoli si Shqipria, po edhe Italia, kanë përfituar bashk me popoli që i kanë pritur këto mërgata. Quindi, sì, secondo me, le persone che arrivano in Italia, dovrebbero rientrare in una politica migratoria, non solo italiana, ma dell'Unione Europea. Dhe ata che duon të emigrojnë dretti italisti, duhet të përfshirë në politica migruese, jo vetëm italiane, por në gjithë bashkimin european. Secondo me, questi centri presentano due livelli di problemi. Këto centra paracisin dullo i problemes. Il primo è un livello, diciamo, valoriale, cioè, chi arriva in Italia deve essere accolto in Italia o all'interno dell'ecosistema Unione Europea con uno smistamento in quote e eque nei paesi europei. Pra, kushtu che i drettojt italisti per të mërritur që kësisionu in bashkimin european, do të pritit do n'Itali ose në një ndarjet drette kuotave në të gjithë territorio në bashkimin european? Io voglio anche ricordare che l'Albania non è una colonia italiana. L'Albania è un paese con cui noi siamo amici, vogliamo strijere un rapporto. Avete tentato spesso di pelonizzarci. Ma non a mio nome. E anzi, io credo che noi dobbiamo, vogliamo costruire un rapporto di amicizia vero con l'Albania, un rapporto di scambio equo. Mundo, c'è edhe Shqipria, mendoj, faktor c'è Shqipria nuk është një colonia italiana, ndaj do duet të ndertonin, mardone d'y palce me zvëndeve në një mënyur mëtë barabar dhe me shkëmbimi mëtë drejta. Ma avete visto il nostro premier che si limona con il vostro premier? Ho visto, e n'son d'accordo. E ke pa kërministrin tonë t'u bollap me kërministrin t'uaj? Lap, no? Nduke u. L'Unione, Rama Meloni, per me, è proprio quello che non deve avvenire tra il popolo italiano e il popolo albanese, che invece possono creare cose meravigliose, non certo quei centri disumani. A i loj bashkimi, Rama Meloni, nuk është bashkimi c'e na duet, dhe mëtë ndertonin, fakt, kërministrin c'i prinsip, kërministrin e italijs, Gerat Marku Lushma, por jo këto loj c'ëndrash c'njërzore. Il vostro pensiero sul fatto che in realtà questi centri, trane il costo spettacolare e massivo, trane il fatto che ci sono 250 carabinieri che vi alleggiano là, ma non stanno facendo niente. Il fatto che non c'è nessun emigrante là, cosa vi dice? E infatti, secondo me, il secondo ordine di problemi che cercavo di dire prima è un ordine di problemi economico. Infatti, aspetti due c'e t'ho discutere per il fact in se, këto c'endrash c'ha në kushtuar shum, per vese c'ha në 250 veda staff nga Italia, c'ha në c'ha në pjesë, forse në veda rendita t'epo, por rincoz këtë duke bër'hotelleri di turizion, është, qështet due c'e doja t'prekja, kosto ekonomike e këtyra. Secondo me, questi c'aldi si potevano spendere da un lato per migliorare le strutture di akoglienza digli emigrati, che appunto, secondo me, devono essere ricevuti in Italia, appunto. Këto para, më t'ishtim përdo rurë për të përmirsuar cilcine cendrave të pritis për këta emigrant, që në fakt i kemi këto cendra pritis dhe pigerisht për faktin se këta emigrant duon të vinë në Itali dhe jo në gjadrë. E il secondo, l'Italia un paese dove da 30 anni i salari sono fermi, la comunità albanese è la seconda comunità più grande, quindi, questi c'aldi si potevano mettere in sistemi di assistenza sociale per ajutare le persone che sono in Italia, sia cittadini che non cittadini che seconde generazioni, a migliorare le proprie kondizioni economiche. Io concludo solo con un messaggio brevissimo. Kame një fjallit fundit? Questo esperimento non soltanto è un fallimento perché evidentemente come tu dicevi prima i carabinieri sono lì a non fare niente e non c'è nessuno. Quindi anche a chi piace questo modello d'immigrazione questa cosa non funziona e non si può fare, ma se funzionasse sarebbe comunque valorealmente completamente sbagliata e inumana. Secondo me questa struttura è letteralmente una prigione e nessuno dë il diritto al governo italiano o al governo albanese di incarcerare la gente per aver tentato di cercare una vita migliore. C'è s'è che edhe sicur të fungsono dhe jo vede m'fakti che nuk fungsono dhe esh një dështim spektakular k'y model k'y stil por aver sicur t'u fungsono t' t'